Siamo con Ezio Camelli, il team manager del team C&C Competition, allora ti chiedo subito un bilancio su quello che è stato il secondo weekend di gara della Trofeo Super Cup. Diciamo un weekend abbastanza movimentato a causa dei problemi con la Seat Leon, ma con le altre due Peugeot siamo soddisfatti con i due piloti Tonino Scocco e il massimo di Ferdinando. Peccato la pioggia che anche sulla seconda gara del Super Cup ci ha beccato. Un campionato comunque questo, il Trofeo Super Cup, sicuramente interessante, caratterizzato da grandi numeri e tu se non sbaglio sei stato tra i primi a credere in questo progetto. Sì, diciamo noi per il secondo anno stiamo ripetendo il cambiato Super Cup, abbiamo dato la fiducia da Giordano Giovannini. Che dire, diciamo quest'anno stiamo andando bene con parecchie macchine in griglia di partenza, speriamo nelle prossime gare ancora di più, di aumentare. Appuntamento dunque a Magione per il prossimo round con rinnovati propositi di successo. Sì, diciamo prossimo appuntamento, terza gara del campionato a Magione, 3 luglio se non sbaglio. Spero di raccogliere ancora aiutati di questo genere. Bene, grazie e complimenti. Grazie.